Nel panorama universitario italiano sono molto rari i corsi dedicati alla formazione nel settore del biologico. L'Università di Urbino, Dipartimento di Economia, colma questo vuoto creando un corso di formazione permanente per chi vuole intraprendere una nuova attività produttiva nel settore bio o voglia riconvertire la propria azienda, non perdendo di vista naturalmente nessuno degli aspetti che devono comunque formare l'operatore, normativa vigente e redditività compresa. Abbiamo previsto tre moduli didattici di lezione frontale che saranno svolti tra ottobre, novembre e gennaio e che affronteranno tre temi diversi. Il primo darà conto della diversità dei modelli di agricoltura biologica, quindi avrà un aspetto più tecnico-produttivo. Il secondo affronterà l'analisi delle relazioni che esistono tra imprese agricole e imprese a monte e a valle, quindi agricoltura biologica in un'ottica di sistema, di relazioni commerciali strutturate nell'ambito del sistema agroalimentare. Il terzo invece affronterà soprattutto l'analisi dello scenario, quindi andamento del mercato e soprattutto analisi delle politiche. Le marche vantano l'invidiabile situazione di avere il 20% della superficie coltivabile occupata dal biologico con 2.957 aziende. Nelle principali filiere dove sono presenti sono quella dei cereali, della zootecnia delle carni bianche, del vino e dell'orearia, con il consorzio Marche Biologiche che vanta un fatturato stimato in 30 milioni di euro con oltre 300 aziende socie. Occorre che la politica agricola sostenga modelli produttivi diversi. L'approccio di filiera e di distretto sono i due approcci che gli imprenditori agricoli devono assecondare ma per farlo occorre avere una capacità professionale che non è scontata e quindi per assicurare una coniugazione tra la sostenibilità ambientale e quella economica occorre quindi una maggiore professionalità. Potremmo dire con uno slogan meno aziende più imprese. Come non poteva essere così in un territorio, la provincia di Pesururbino, patria mondiale del biologico, dove negli anni 70 Gino Girolomoni a Isola del Piano fondò l'omonima azienda agricola creando così una coltivazione sostenibile. Noi puntiamo sulla filiera, credo che sia importante che i produttori italiani abbiano il giusto prezzo per la produzione che fanno in modo da poter anche progettare il futuro, programmare di mandare i figli a scuola, di fare anche l'università e fare anche degli investimenti. Altrimenti il mondo del grano in Italia, con le rigole che ci sono oggi, con i vari accordi internazionali, è destinato pian piano a sparire. Le domande per potersi iscrivere al corso di formazione permanente dovranno pervenire all'Ateneo entro il 15 di ottobre del 2018.